Questi cinque segni zodiacali prendono a Natale la migliore decisione della loro vita. Natale è un momento di meraviglia, calore e decisioni profonde. Nell'atmosfera festiva, circondati da luci scintillanti e il profumo di abeti e dolci al forno, molti tendono a riflettere sulla loro vita e a prendere decisioni significative. Interessante è che, per alcuni segni zodiacali, questo tempo riflessivo sembra essere un periodo particolarmente trasformativo. Diamo un'occhiata ai cinque segni zodiacali che a Natale potrebbero prendere la migliore decisione della loro vita. Cancro I cancro sono noti per la loro profonda sensibilità e intelligenza emotiva. Sono fortemente legati al loro ambiente domestico e alle loro famiglie. Il periodo natalizio è caratterizzato da famiglia e casa. Ed è per i cancro un periodo particolarmente emotivo. La decisione della vita per il cancro? I cancro, in questo periodo, potrebbero rendersi conto dell'importanza di considerare i propri bisogni. La decisione di dare più spazio a se stessi e, forse, anche di aspirare a un cambiamento in ambito personale o professionale potrebbe essere rivoluzionaria. Questo potrebbe significare allontanarsi da relazioni tossiche, con un taglionetto, o inseguire un sogno a lungo coltivato che era stato accantonato. Questo sarà un salto evolutivo nel proprio percorso di vita. Scorpione Gli scorpioni sono noti per la loro intensità e la capacità di scavare in profondità. Non sono soddisfatti del superficiale e aspirano sempre alla sostanza delle cose. Durante il periodo festivo, sono spesso colti da un'ondata di autoriflessione. La decisione della vita per lo scorpione? Una persona sotto il segno dello scorpione potrebbe decidere di liberarsi da vecchie paure e dubbi. Questa liberazione dalle catene emotive potrebbe spingerla a correre un rischio che finora aveva evitato, sia in amore, nella carriera o in un progetto personale. Capricorno Capricorno La fase di quiete spesso giungono alla realizzazione che la pazienza e la riflessione sono altrettanto importanti quanto la loro inclinazione naturale all'azione. Per la riete, questo periodo natalizio potrebbe essere il momento in cui decidono di mettere finalmente in pratica un'idea o un progetto a lungo coltivato. Questa decisione, accompagnata da un approccio più riflessivo, potrebbe cambiare la loro vita in modi che non avrebbero mai potuto immaginare. Natale non è solo una festa, è un periodo speciale per pensare e trovare ispirazione. Durante le feste, i segni zodiacali come ariete, cancro, bilancia, scorpione e capricorno hanno l'occasione di fare scelte importanti per la loro vita. È un momento per guardarsi dentro, pensare a ciò che si vuole davvero nella vita, e fare cambiamenti grandi. Il video spiega che Natale può essere un momento perfetto per capire meglio noi stessi e prendere decisioni che contano davvero. L'astrologia, anche se alcune persone la discutono, ci aiuta a capire meglio noi stessi e a prendere decisioni. Questo periodo è buono per riflettere su di sé e pensare a come migliorare la propria vita. Il video invita tutti a usare il periodo di Natale per riflettere e fare scelte che migliorano la nostra vita. Si tratta di lasciarsi alle spalle le vecchie abitudini, trovare nuovi obiettivi e avere il coraggio di inseguire i propri sogni. Natale è un momento di nuovi inizi e speranza, e questo video ci invita a usare questa energia per migliorare la nostra vita. Speriamo che tu abbia apprezzato questo video e che ti sia stato d'aiuto. Ti auguriamo un periodo natalizio pieno di riflessioni e miglioramenti. Ciao e a presto! Grazie a tutti!